Buon giovedì 25 aprile. Gesù è tra gli undici e li invita ad andare a proclamare la buona notizia, il Vangelo a ogni creatura. Lui ascende al cielo, lui che è disceso dal cielo, è la parola che si è fatta carne, è il figlio di Dio. Lascia liberi gli undici, invitandoli a proclamare la buona notizia, che la vita eterna è stata donata all'umanità, che può vivere pienamente nella liberazione dall'angoscia della morte, che spinge molto spesso a trattenere l'esistenza, perché la buona notizia è ricca di prospettive liberanti, prospettive di amore, di mesi ricordia, di giustizia, di cura del prossimo. Questi sono gli elementi che caratterizzano la buona notizia. Il programma della buona notizia non è un programma politico, e neppure è una morale, è un agire concreto, liberante, che si prende cura del prossimo. Così Papa Francesco si esprime in occasione della Regina Ceri del 16 maggio 2021, parlando proprio dell'ascensione, del fatto che Gesù sembra andarsene, ma in realtà rimane in noi, nella preghiera, nell'ascolto, nell'incontro di Gesù nel volto del prossimo. L'ascensione completa la missione di Gesù in mezzo a noi. Infatti, se è per noi che Gesù è disceso dal cielo, è sempre per noi che vi ascende. Vedete, Gesù non si pone come un leader assoluto. Gesù esprime la potenza del Padre che ci ha generato nella libertà. Dopo essere disceso nella nostra umanità e averla redenta, non dimentichiamoci mai, la redenzione passa attraverso il sacrificio della croce, che, ripeto ancora una volta, non è fine a se stessa, ma è un'apertura concreta alla pienezza della redenzione, che si attua nella Resurazione, nel passaggio, nella Pasqua. Dio, il Figlio di Dio, scende e si fa uomo, prende la nostra umanità e la redime. Ora ascende al cielo, portando con sé la nostra carne. L'incarnazione di questo ascendere e discendere vi è concretezza, ma non vi è assolutamente un disegno politico mondano. vi è la costituzione di una prospettiva autenticamente liberante nella trascendenza e nell'immanenza. È il primo uomo che entra nel cielo perché Gesù è uomo, vero uomo, è Dio, vero Dio. La nostra carne è in cielo e questo ci dà gioia. Alla destra del Padre siede ormai un corpo umano, per la prima volta, il corpo di Gesù. E in questo mistero ognuno di noi contempla la propria destinazione futura. Sperate che questo è un passaggio difficilissimo da un punto di vista antropologico, ma possibile per tutti, se ci poniamo nell'ascolto, nella preghiera, nella trascendenza. non si tratta affatto di un abbandono. Gesù rimane per sempre con i discepoli, con noi. Rimane nella preghiera perché Lui, come uomo, prega il Padre e come Dio, uomo è Dio. Gli fa vedere le piaghe, le piaghe con le quali ci ha redenti. è il sacrificio di Gesù che porta alla redenzione, nella pienezza della risurrezione. Certo, per noi esseri umani tutto questo è molto difficile da comprendere e possiamo farlo solo attraverso un'azione di trascendenza, lasciarci andare alla pienezza liberante di questa buona notizia. E questo ci deve dare una sicurezza. Non cerchiamo la sicurezza nella mondanità. La troviamo qui. In questa trascendenza troviamo la sicurezza. Anzi, troviamo una gioia, una grande gioia. E il secondo motivo di gioia è la promessa di Gesù. Lui ci ha detto «Vi invierò lo Spirito Santo». Egli, con lo Spirito Santo, si fa quel comandamento che Lui dà proprio nel congedo. E lì, scusate, non Lui, e lì, con lo Spirito Santo, si fa quel comandamento che Lui dà proprio nel congedo. Andate nel mondo, annunziate il Vangelo. Questo è il compito del cristiano. Altri non ce ne sono. Annunciare la buona notizia. Essere coscienti e consapevoli che viviamo nella pienezza della presenza di Gesù. Nella sua infinita misericordia non è venuto a condannare o giudicare il mondo. È venuto a salvarlo. Quante volte i cristiani, invece, si fanno protagonisti di condanna del prossimo senza mai avere attenzione alla propria autentica conversione soggettiva. inscenano forme politiche, morali, vogliono le leggi che creino sicurezza, ma non si lasciano andare alla pienezza di una sicurezza che deriva dall'accogliere il comandamento supremo. Andate, predicate la buona notizia che vi è stata donata e che è stata testimoniata dal figlio dell'uomo, dal figlio di Dio, dalla parola che si è fatta carne, il Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù apparve agli undici e disse loro, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Proclamare significa dare testimonianza a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Scacceranno demoni, parleranno lingue, vedete, parleranno lingue nuove, sono forme di apertura, di liberazione, scacceranno quelle forme divisive della mondanità che sono i demoni, parleranno lingue nuove e si sapranno esprimersi nella diversità, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Si prenderanno cura quanti proclamano il Vangelo. Non si faranno protagonisti di giudizio. Non avranno paura perché sono certi di vivere nella pienezza del dono della redenzione e della salvezza che accolgono nel proprio animo e nel proprio spirito. Il Signore Gesù dopo aver parlato con loro fu elevato in cielo e sedete alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. È una parola concreta fatta di segni autentici. Predicare ovunque essere testimoni di liberazione sapendo che tutto questo accade non in virtù dei nostri meriti che non sono grechi ma nella pienezza e nella consapevolezza della presenza di Gesù. Una concreta trascendenza segna il nostro orizzonte futuro se sappiamo accogliere nella preghiera l'invito a proclamare la buona notizia che l'umanità è stata redenta ed è stata liberata anche se è costantemente sottoposta alla tentazione demoniaca della mondanità. Ma questo non sarà un ostacolo anzi sarà il luogo supremo nel quale quanti accolgono in sé la presenza di Gesù si faranno protagonisti di liberazione di ogni creatura da distanze equivoche della mondanità per vivere nella concretezza e nella pienezza di una vita vissuta su questa nostra madre terra che siamo chiamati ad amare a servire e incontrando il prossimo incontriamo la presenza di Gesù nella sua infinita misericordia che ci accompagna e ci dà il coraggio di un percorso di liberazione autentica che passa attraverso la testimonianza proclamare la buona notizia significa testimoniare che Gesù è veramente risorto è tra noi è sceso al cielo e contemporaneamente è presente nella concretezza della nostra esistenza buona giornata a tutti di un percorso Grazie.